La tassazione, come ha detto anche il Presidente nazionale, e l'assenza di programmazione per il mercato immobiliare è palesa assolutamente da parte del governo italiano. In Sardegna risentiamo moltissimo di questo, ma anche dell'abusivismo imperante, perché purtroppo taluni soggetti fanno mediazione per affittibie brevi, pur essendo privati, ma speriamo che escano fuori dal guscio e con Booking e Airbnb, che noi vediamo come il male comune, tuttavia potrebbe aiutare nella fuoriuscita del nero, speriamo di un aiuto.